Sarà Monopoli in uvo, la sfida di finale play-off del campionato di Cigold in entrambe le semifinali è stata decisiva a gara 3 per emettere il verdetto definitivo. La grande gioia sul neutro di Mora l'ha vissuta la squadra allenata da coach Ambrico che recupera Bosniak, manda 6 giocatori in doppia cifra e schianta Ostuni che crolla vertiginosamente sul più bello. Dall'altra parte del tabellone l'equilibrio regnato sovrano fino a un secondo e 5 decimi dalla conclusione. Un super Vanni La Quintana autore di 37 punti e l'MVP di serata autore tra l'altro del libero con il quale la Tecno Switch tornerà a giocarsi la finalissima dopo ben 12 anni. Ruvo scappa via in apertura di partita prima di subire il ritorno dei locali. Palaventura straordinaria cartolina per la palacanestro pugliese con oltre 2000 spettatori presenti, 500 dei quali di marca ospite. La classe di Malaventura porta Lecce sul più 8 a 5 dalla conclusione, poi Gentili prende per mano i bianco-azzurri dando loro lucidità e organizzazione prima dei canessi della Quintana e della gioia ruvese. La finale si disputerà al meglio delle 5 gare, si comincia domenica 12 maggio per gara 1.